Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Il mese di dicembre è iniziato ancora con una giornata stabile e in gran parte soleggiata su tutta l'Emilia Romagna, tuttavia la nulosità è aumentata. La giornata di venerdì vedrà una giornata davvero simile a quella di oggi. Infatti i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi con addensamenti maggiori al primo mattino lungo il corso del fiume Po e sul Ferrarese dove sarà possibile anche qualche nebbia e durante la giornata soprattutto sul crinale al confine con la Toscana. Ma sarà nulosità sterile e infatti non sono previste precipitazioni. Solamente tra la sera e la notte nella giornata di sabato avremo maggiore nuvolosità e qualche debole precipitazione. Per quanto riguarda la ventilazione avremo 20 deboli e il mare si presenterà quasi calmo. La situazione termica invece vedrà ancora possibili gelate sulle pianure con valori compresi tra meno 2 e più 4 gradi mentre i valori massimi saranno generalmente compresi tra più 8 e più 12 gradi. Farà più caldo in appennino infatti aria più calda in quota determinerà l'inversione termica quindi durante la giornata avremo temperature spesso più alte sulle vette più alte del nostro appennino che in pianura. Per ora è tutto buona serata da Andrea Raggini